Liberi.tv Riccardo Cristiano a Pizzo per la costituzione di un'associazione radicale che porta il nome di Eleonora Cretella in compagnia di Claudio Giuseppe Scaldaferri, noto militante radicale e oggi ho scoperto che viene individuato come l'uomo della stella gialla ci spiegherà il motivo perché viene individuato come l'uomo della stella gialla e soprattutto parlava del suo sciopero della fame ci spiegherà come mai è in sciopero della fame In continuità con l'intervista che tu mi facesti al congresso del 2011 del partito radicale non violento transazionale transpartito, il 39esimo congresso del partito radicale non violento transazionale e transpartito lì dove adesso il diritto umano alla conoscenza è la grande questione di portare poi il metodo scientifico nella politica che per eccellenza è diventata l'antiscienza cioè è diventata la cancellazione di una memoria storica il referendum dei primi anni 90 ma anche quelli prima sulla giustizia il caso Tortora, cioè la possibilità di conoscere nell'applicazione della costituzione e quindi di avere come riferimento la persona e la socialità che non è che è importante è importantissima e io in quell'occasione ne parlai proprio con le riforme le uniche che ci sono state nel nostro paese poi fondamentalmente il divorzio e l'aborto vinte nella conoscenza della persona e quindi in una socialità mai a prescindere dalla stessa che è il bivio al quale oggi è questa globalizzazione allora la stella ogni giorno la spiego perché la presento con il riferimento della conoscenza della persona e quindi della socialità mai a prescindere dalla stessa in quanto la stessa significa fare politica perché magari uno esprime le proprie passioni il tennis, la musica, la cultura, l'arte, vado ad una mostra eccetera eccetera e in quel momento si ha a tutti gli effetti una proposta politica ma non nella ufficialità di quello che la partitocrazia è diventata perché oggi la questione della forma della partecipazione come richiamai nell'intervista del 2011 è riferimento attorno al quale io posso recuperare il passato posso capire, posso comprendere, posso conoscere posso avere il riferimento della persona e quindi posso appunto ribadire e ripetere io sono Claudio, Claudio è sempre Scaldaferri ho riceno di Lauria ecco e io questo volevo capire anche ti faccio una domanda veloce veloce anche perché so che tu non sei nemmeno di qua, sei di Lauria e la sera si è fatta abbastanza tarda ma tu come sei diventato radicale? soprattutto tu, perché sei radicale? cioè ci sarà stato un momento della tua vita che ti ha fatto scegliere o ti ha fatto illuminare e dire sono radicale? io lo sono sempre stato come nell'assemblea del 19 marzo specificato poi ho iniziato a fare attività politica ero a Dublino, mi arrivò un'email di Emma Bonino perché magari avrei potuto iniziare a farla anche era la fine degli anni 90 era stato il 98-99 e quindi sono 20 anni sì sono 20 anni io ho origine di Lauria in provincia di Potenza vivo da 20 anni a Preammare in provincia di Cosenza lì dove come pannella più volte ha ripetuto il riferimento al territorio, alla propria comunità e anche in questo caso la possibilità di avere strumenti perché poi il metodo scientifico e ogni riferimento della scienza faccia appunto la conoscenza e non diversamente e perché magari avrei iniziato a fare politica Riccardo qualche anno prima se avessi avuto la possibilità di ricevere l'email o magari un'informazione altra in televisione perché i radicali passavano molto poco ed in mia iniziativa avrei potuto mettere insieme quello che facevo prima anche con un'attività sul territorio che non c'è stata perché i diritti sono stati negati e continuano ad essere negati e perché si è cercato di capire appunto eliminando e non avendo la ricchezza del pluralismo e quindi applicando la costituzione che aveva una dimensione transazionale e traspartitica con riferimento all'intervista del 2011 i nodi sono quelli che noi rilanciamo sempre dell'intergovernativo e di partiti che non rappresentano nient'altro che il chiuso mentre è tutto aperto interrazionato perché la scienza e tutte le verità scientifiche ci dicono questo insieme alla verità spirituale e di fede e noi viceversa ci siamo dovuti conoscere fuori da tutto quanto questo e questo è il significato della stella che ripropongo insieme al simbolista amministrazione di giustizia e libertà e dal volto di Ganti che ben rappresenta appunto la forma della partecipazione ed una conoscenza che avrebbe potuto significare da anni il contributo di un approccio transazionale e traspartitico e quindi non violento Perfetto, io ringrazio Claudio Giuseppe Scaldaferri radicale storico da ben 20 anni chi volesse trovarlo può trovare soprattutto i suoi interventi su Radio Radicale, su Liberi TV e cercarlo su Facebook Grazie ancora Claudio Giuseppe Scaldaferri Riccardo Cristiano, Liberi TV, Pizzo Grazie a tutti